Erano stati residenti insospettiti da un insolito via vai a lanciare l'allarme segnalando i continui movimenti di giorno e di notte alle forze dell'ordine, timori che hanno ben presso trovato conferma proprio sotto quell'appartamento nel quartiere di Saione, infatti si spacciava. La polizia di Stato ha così arrestato una quarantenne per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, la squadra mobile di Arezzo, guidata da Francesco Morselli, aveva dato avvio alle indagini che hanno permesso di portare alla luce le modalità ben studiate utilizzate dalla donna per spacciare. Stando a quanto emerso dalle indagini, la quarantenne infatti si sarebbe prima accordata con gli acquirenti su quantità e qualità della sostanza per procedere la droga in fondo alle scale di quell'appartamento. Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato un quantitativo di droga eroina eccessivo per l'uso personale. Per la donna sono così schiattate le manette, dovrà rispondere, detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti.